Ok ragazzi, partiamo con la preparazione e la costruzione della nostra vasca idroponica. Utilizziamo materiali semplicissimi, alla portata di tutti, con un costo veramente irrisorio, si tratta di 10-15 euro per la costruzione della vasca. Poi ci saranno costi aggiuntivi per quanto riguarda le pompette da metterci all'interno, ma lo vedremo dopo. Utilizzeremo due pedane, che si possono acquistare praticamente ovunque, in qualsiasi agraria, del costo di 1-2 euro l'una. Due pezzi di ponteggio, di legno, un 40x40 più o meno come dimensione, e poi due perline di lunghezza 2 metri, che poi noi andremo a tagliare della lunghezza che vogliamo fare la vasca. La vasca sarà lunga 2 metri, per una larghezza di 40, per un'altezza di 40 cm. Bene, ora non ci resta che andare a vedere come si costruisce. Ragazzi, come prima cosa tagliamo le pedane della dimensione che ci servono, quindi circa la metà, le uniamo e poi aggiuntiamo i pezzi per ottenere la lunghezza che ci serve, quindi di 2 metri. Come seconda cosa prendiamo le nostre perline, le tagliamo della lunghezza, quindi di 2 metri, per poterle montare sulle pedane. Grazie a tutti. ok ragazzi siamo a buon punto abbiamo tagliato le pedane le perline le abbiamo unite abbiamo incominciato a montare i laterali della vasca con dei vistelli all'interno in modo tale che non che non cadano adesso metteremo i finali e poi metteremo il nylon all'interno